pesaro investe sul verde per mitigare il riscaldamento globale violenza di genere in carcere una sinergia per contrastarla controlli della finanza un chilo di stupefacenti sequestrati ad agosto disputa su il testimonial delle marche biancani propone valentino rossi WL nuovi ingressi del consorzio pesaro basket ben ritrovati al nostro telegiornale ben ritrovati su Rossini tv in apertura andiamo ad occuparci di clima lo scorso sabato 26 agosto è stato pensate il giorno più caldo rilevato a pesaro da 71 anni sul riscaldamento che va a contrastare a livello globale ma sul quale si può agire anche localmente in tal senso pesaro è pronta ad una nuova strategia di potenziamento del verde urbano e del recupero delle acque come ci viene illustrato in questo prossimo servizio con l'assessore Maria Rosa Conti che è stata oggi ospite nei nostri studi sabato scorso 26 agosto con 39 gradi rilevati dall'osservatorio Valerio è stata la temperatura più alta percepita a pesaro da 71 anni un promemoria su un'estate particolarmente calda che ci ricorda una problematica sicuramente globale ma sulla quale si riesce si può agire anche localmente con alcuni interventi va in questo senso l'azione dell'assessorato all'ambiente di Maria Rosa Conti che ha intrapreso una strategia precisa da diversi mesi che ora si rafforza di ulteriori progetti. La strategia fever lo diciamo all'inglese per richiamare il caldo, il warming, il global warming in realtà fever come acronimo significa funzioni ecosistemiche del verde o funzioni ecologiche del verde significa che il patrimonio naturale che abbiamo all'interno di un ecosistema urbano ha tantissime funzioni come la captazione del CO2, la mitigazione termica e funzioni anche di regolamentazione idrica quindi della gestione dell'acqua e quindi va anche verso diciamo una regolamentazione e una lotta anche al dissestro idrogeologico. Quello che è importante collegato a quello che è successo sabato scorso ci fa capire che con questa strategia iniziata a maggio di quest'anno per cui abbiamo dato l'incarico all'Università di Sassari e per cui abbiamo già iniziato a poter partecipare in alcuni progetti europei come Horizon che come sappiamo ha un programma specifico sul clima, sull'acqua, sulla gestione idrica e sulla lotta ai cambiamenti climatici ci fa capire che questa pianificazione, questo focus della nostra città può portare a delle azioni concrete, molto concrete come ad esempio capire come anche la nostra città può essere una città spugna e cioè captare l'acqua nel momento delle alluvioni e restituirla e quindi una mitigazione anche idrica e come noi possiamo fare un'attività di forestazione urbana e quindi utilizzare i grandi benefici che hanno gli alberi, la capacità che può avere un bosco ma anche una semplice alberatura di poter regolare il microclima all'interno della città magari in luoghi dove c'è maggiore cementificazione come se fossero appunto tanti climatizzatori accesi acqua 24 quindi anche con un risparmio energetico. Una città più verde con una più sapiente gestione dell'acqua con azioni che poi andranno a tradursi anche in proposte politiche in Consiglio Comunale? Sì perché la strategia FEVER fa questa pianificazione e quindi significa che ci sarà prima di tutto un piano del verde, una mappatura generale di tutti i siti naturalistici e anche i corsi d'acqua quindi infrastrutture verdi blu private e pubbliche e quindi avremo contezza di questo nostro patrimonio naturale e di tutti questi benefici e queste funzioni che potranno essere riportati per la comunità e per l'ecosistema urbano però tutto questo sarà tradotto anche finalmente in una nuova visione del rapporto tra il costruito e tutto quello che invece sono gli elementi verdi all'interno di una città anche banalmente le alberature lungo dei viali e quindi questo significherà una rivisitazione molto molto radicale del regolamento del verde che è del 2016 e un'interlocuzione molto forte anche una rivisitazione degli allegati tecnici al PRG e quindi anche con un'ottica regolamento edilizio. Su questo abbiamo già iniziato un percorso con l'assessora all'urbanistica. Dalle criticità del clima passiamo a un tema differente ma di altrettanta pressante attualità quello della violenza di genere fenomeno che da due anni vede un'importante azione di progetti nel carcere di Pesaro sia sugli uomini maltrattanti sia sulle donne vittime di abusi. Da 12 anni la cooperativa labirinto si occupa di servizi a contrasto alla violenza di genere con progetti che nell'ultimo biegno hanno varcato un confine delicatissimo come quello delle sbarre del carcere di Villa Fastici. Lo ha fatto attraverso percorsi psicoterapeutici calibrati sulle donne vittime di abusi ma anche sugli uomini maltrattanti da quelli già condannati per il reato a quelli in attesa di giudizio. Un lavoro sociale e culturale che il 29 settembre traccerà un bilancio su quanto realizzato attraverso una conversazione presentata oggi nel comune di Pesaro che si terrà nella stessa casa circondariale dal titolo Il femminile, il maschile nell'accadibile. Si tratta di una conversazione pubblica sui temi del contrasto alla violenza di genere a cui parteciperanno una giudice che ha nella suo curriculum una particolare esperienza in materia, la direttrice della casa circondariale e le esperte della nostra cooperativa che si occupano di questi temi. Sono temi di cui il labirinto si occupa ormai da 12 anni gestendo servizi e progetti ed in particolare dentro il carcere da almeno un paio d'anni con azioni sia rivolte alle donne che hanno subito violenza di genere che sono detenute per sostenerle dal punto di vista psicologico e sia anche per gli uomini invece che sono dentro per aver commesso violenza di genere, categoria alla quale finora non si era prestata particolare attenzione e invece sono ultimamente oggetto di una nuova sensibilità anche da parte delle istituzioni. Il servizio per esempio per maltrattanti che noi abbiamo dentro, dentro il carcere intendo, lavora con persone che hanno già commesso il reato, che sono lì dentro per quel reato. Il percorso non è semplice e mira a far sì che l'uomo possa alla fine provare a sentire il dolore che ha inferto, a sentire lui il dolore che ha inferto perché è questo poi il passaggio determinante, l'incapacità di sentire il dolore che si procura all'altra, alla compagna, alla ex compagna. Riuscire a fare questo percorso non è semplice ma è l'unica possibilità che abbiamo. Funziona nel senso che c'è una grande richiesta da parte anche dei detenuti perché comunque sono liberi di partecipare al gruppo e noi abbiamo visto piacevolmente colpiti dal fatto che tanti di questi uomini vogliono stare dentro il percorso, così come un po' meno piacevolmente colpiti dal fatto che la maggior parte delle donne detenute sono donne, sono state donne vittime di violenza. Il 90% delle donne detenute hanno avuto esperienze importanti, molto gravi di violenza. Noi abbiamo come compito quello di prenderci cura in modo appropriato di queste persone da tempo. Grazie alla legge sul codice rosso abbiamo anche delle risorse e dei fondi in più che ci consentono di fare delle convenzioni con psicologi maltrattanti oppure come in questo caso con la cooperativa Labirinto per offrire un servizio ancora migliore, un lavoro che faccia sì che le persone che hanno commesso questi reati prima di vedere la parte negativa di sé vedano anche quella positiva perché devono capire di avere in se stessi gli strumenti per aiutarsi. Quindi si fa arte, arte terapia, danza, teatro, tutte cose molto molto belle che noi lavoratori non abbiamo il tempo di fare ma farebbero bene anche noi che però per loro sono quasi un obbligo. Cioè le devono fare per dimostrare veramente il cambiamento. Il discorso culturale lo diciamo sempre però nei fatti si fa molto poco. Nei fatti noi cerchiamo di farlo. Fate conto che il Centro Antiviolenza negli ultimi quattro anni ha organizzato almeno una decina di incontri pubblici ogni anno. Lavoriamo dentro le scuole, dentro le scuole medie, dentro le scuole superiori. Però non è abbastanza. Il lavoro culturale lo vedono i fatti di oggi. Cioè certe volte ci sembra davvero di non riuscire a trovare una possibilità. Nei fatti le questioni sono cambiate, ce ne accorgiamo, però non abbastanza. Negli ultimi dieci anni il numero di femminicidi è rimasto costante. Non c'è nessuna decrescita purtroppo, anche se il numero in generale degli omicidi in generale è diminuito, ma quello dei femminicidi no. Quindi evidentemente c'è ancora qualcosa che non sappiamo fare. Ed ora passiamo alla cronaca. Sequestri di droga e merce contraffatta, lavoratori nero e irregolarità negli scontrini. Questi alcuni dei reati emersi nell'intenso mese di agosto. Un mese di controlli a cura della Guardia di Finanza di Pesaro. Si chiude un mese di agosto di intensificati controlli della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino via terra e via mare in contrasto a illeciti in materia economico-finanziaria sul litorale, nei parchi, nelle stazioni ferroviarie e nei principali luoghi della Movida. I numeri dei controlli dicono di oltre 1200 persone identificate e per quelli che riguarda il tema di contrasto agli stupefacenti di ben un chilo di droga sequestrata fra marijuana, hashish ed eroina grazie al supporto delle unità cinofile. Lungo il litorale fra Pesaro e Fano sono stati anche controllati 16 esercizi pubblici con 8 soggetti segnalati alla Procura per violazione alla normativa sui diritti d'autore. Sono stati anche individuati 9 lavoratori in nero e 18 irregolarità nelle emissioni degli scontrini. Sono stati inoltre sequestrati 1.361 prodotti insicuri ai sensi del codice del consumo e 4.788 articoli contraffatti. L'attività di servizio svolta via mare da parte del reparto operativo Aeronavale di Ancona ha anche consentito di effettuare 71 controlli di polizia a imbarcazioni da diporto e unità da pesca rilevando 14 violazioni di carattere amministrativo. E continua il dibattito sul testimonial della regione Marche. Dopo la bocciatura del sindaco di Pesaro Matteo Ricci nei confronti di Roberto Mancini in favore invece di Gianmarco Tamberi spunta anche la candidatura di Valentino Rossi. A caldeggiarla è il consigliere regionale Andrea Biancani e nel prossimo servizio ci illustra i motivi. L'ingaggio di Roberto Mancini da CT dell'Arabia Saudita ha fatto discutere a livello nazionale, figurarci a livello regionale con quello che è il testimonial della regione Marche. Diverse discussioni in questa settimana se mantenere o meno questo testimonial. C'è stato il sindaco Ricci che ha proposto Tamberi come testimonial unico in questo senso. Andrea Biancani ha anche un'altra idea. Devo dire che se vogliamo rimanere all'interno di personaggi sportivi il testimonial migliore non c'è dubbio può essere solo Valentino Rossi. Valentino Rossi è un personaggio conosciuto in tutto il mondo, ha milioni di fans in tutto il mondo, ha fatto la storia del motociclismo negli ultimi 25 anni. E' sicuramente un personaggio che permetterebbe veramente di far conoscere le marche in tutto il mondo. Fino ad oggi ovviamente era impensabile pensare di utilizzare Valentino come testimonia, innanzitutto per quello che potrebbe essere stato l'ingaggio. Ricordo che Valentino Rossi mentre faceva il pilota era quasi impossibile riuscire a contattarlo, era comunque uno sportivo, probabilmente uno sportivo più conosciuto al mondo e sarebbe stato improponibile a livello economico. Oggi che Valentino Rossi ha lasciato le corse in prima persona perché comunque ha un suo team, ma non è più lui che corre direttamente, probabilmente si potrebbe aprire un discorso e io ritengo che sarebbe veramente il personaggio più adatto. Questo ovviamente all'interno di una scelta delle marche a livello regionale è di continuare ad utilizzare come testimonia degli sportivi. Attualmente abbiamo due sportivi che sono appunto Tamberi e Mancini, prima di loro due la precedente regionale Marche aveva utilizzato Vincenzo Nibali che era un campione mondiale nel mondo del ciclismo, volevamo puntare molto sul cicloturismo delle marche. Se oggi si vuole continuare a individuare appunto uno sportivo, io penso che Valentino Rossi sia il personaggio più adatto. Se invece si vuole pensare a testimonial differenti, penso che le marche siano capaci anche di avere altre figure, ovviamente non nel mondo dello sport, che possono rappresentare le marche. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo tre testimonial culturali, storici molto importanti, ricordo Giochino Rossini, Leopardi, Raffaello, e questi testimonial ce li abbiamo e fanno parte della storia. Testimonial contemporanei sono importanti, ma è importante anche riuscire a individuare quelli che sono i migliori testimonial che possono farsi grandi e portare le marche in giro per il mondo. Una controproposta sull'idea del testimonial non è soltanto un'idea, ma anche qualcosa che andrà per iscritto in Consiglio regionale. Beh, devo dire che come gruppo del Partito Democratico dovrebbe essere presentata, se non è già stata presentata, un'interrogazione in Consiglio regionale, proprio per discutere, aprire una discussione, perché qualcuno pensa che sia opportuno a seguito della scelta di Mancini di lasciare la nazionale che continui a fare il testimonial. Per altri non è opportuno, io penso che anche una discussione in Consiglio regionale possa essere solamente positiva. Qualcuno potrebbe dire che i problemi delle persone attualmente sono sicuramente altri. È ovvio che i problemi delle persone, dei cittadini, anche dei marchigiani, oggi sono altri, ma comunque anche il tema della promozione turistica è importante perché ci sono centinaia di imprese e migliaia di persone che lavorano nelle marche nel mondo del turismo e riuscire a fare il meglio anche per questi lavoratori penso che sia anche opportuno condividere e fare una discussione per individuare il miglior testimonial. E proprio giovedì 7 settembre la sindaca di Tavuglia, Francesca Paolucci, consegnerà le chiavi a Valentino Rossi. E sono attese infatti migliaia di persone per Tavuglia Vale che si svolgerà in piazza Dante Alighieri. Alle 20.30 la serata sarà presentata dai commentatori Sky MotoGP Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini tra video, interviste e gag. Sul palco, insieme a Valentino, saliranno i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti a sorpresa. Per partecipare a Tavuglia Vale è necessario iscriversi sul sito www.tavugliavale.it ad eccezione dei residenti del paese. Per raggiungere Tavuglia saranno predisposti una doppia linea di bus navetta gratuita messa a disposizione dal comune con partenza dalle stazioni del treno di Cattolica e di Pesaro. E dalla moto passiamo alla bicicletta, quella con cui il 32enne Ugo Brischetta dal primo luglio sta percorrendo, pensate, tutta l'Italia. Oggi ha fatto tappa a Pesaro e noi l'abbiamo incontrato. E partito dal suo paese la siciliana piazza Armerina il primo di luglio ci tornerà alla fine di settembre tutto sulla sua bicicletta. Parliamo di Ugo Brischetta e del suo fantastico viaggio su pedali che oggi ha fatto tappa a Pesaro in quella che è la fase discendente di questo percorso. Ugo, sei arrivato fino alla Valle d'Aosta, fino al Trentino. Quali motivazioni ti hanno spinto a questo viaggio sicuramente unico nel suo genere? La motivazione che mi ha spinto a affrontare questo viaggio è stato guarire. Perché ho passato gran parte della mia vita a stare male, ho fatto diverse visite terapeutiche ma alla fine nessuna di queste ha funzionato per cui ho utilizzato la bicicletta come medicina e oggi sono qui e ha funzionato alla grande. Immagino tante difficoltà anche a livello meteorologico, caldo record, magari anche le bombe d'acqua, non so, quali ostacoli hai trovato nel tuo percorso? Beh, il caldo mi piace per cui non è stato per niente un ostacolo. Per la pioggia sono sempre stato fortunato dove passava è arrivato il sole e molte volte sono riuscito anche a evitarlo. Un viaggio lungo che ha riscosso anche l'interesse di tante persone, tante che ti hanno anche ospitato. Sì, da quando ho iniziato a postare sui gruppi molte persone mi hanno contattato e si sono viste nella loro storia per cui hanno voluto incontrarmi e per loro è stato un piacere anche per me poter scambiare le nostre informazioni, le nostre storie ed è stata una bellissima esperienza. E così anche a Pesaro? A Pesaro è un godo di incontrare le persone che sono appena arrivato e spero di incontrarne tante. E stai per trovare ospitalità anche qui a Pesaro? Sì, a pranzo sarò ospite presso un hotel per Ticari di Pesaro e stasera sarò ospite da Daniele Grassetti che ha fatto già lunghe camminate e sono curioso di ascoltare la sua storia. E dunque la bicicletta è una medicina che puoi consigliare a tutti? La bicicletta? Comunque è una passione, per me la passione è la bicicletta, per altri può essere la pittura, può essere la cucina, nella propria passione si può sempre trovare la medicina. Non possiamo che augurarti buon viaggio allora. Grazie mille. Con queste immagini torniamo invece sulla collina petrianese di Riceci, dove dopo le lunghe battaglie contro la realizzazione della discarica è arrivata la panchina gigante. Si tratta di una delle 300 installazioni artistiche realizzate da Big Bench e Community Project, che colloca panchine giganti per ammirare e promuovere la bellezza dei siti panoramici del territorio italiano e in particolare in quello appenninico. Per valorizzare la battaglia a salvaguardia del territorio di Riceci è stata spostata la panchina precedentemente collocata nel vicino borgo di Montefabbri. Nel chiostro della chiesa di San Marco a Monbaroccio la cooperativa sociale Alfa organizza da domani al 2 settembre la rassegna di documentari La salute mentale si narra. Una seconda edizione realizzata in collaborazione con il comune di Monbaroccio che sarà aperta domani alle ore 19 dal documentario Perdutamente di Paolo Ruffini. Seconda serata dedicata al corto Mi vedete? di Alessandro Riccardi. Chiusura con la città che cura di Erika Rossi. E a causa del terreno reso impraticabile dalle ultime piogge è stata rinviata all'8 settembre alle 20.30 la Notte del Coraggio inizialmente prevista a Montefabbri per questa sera. Si tratta di un appuntamento organizzato dall'Associazione Combattenti e Reduci di Montelabate una sorta di commemorazione bellica della notte della presa della linea gotica avvenuta il 30 agosto del 1944. L'appuntamento dell'8 settembre prevede una camminata dal bunker quota 90 di Montecchio attraverso il cimitero di guerra salendo la collina fino alla linea gotica. Ed ora passiamo a alcune notizie di sport. Il nuovo innesto di esperienza internazionale per la Pesaro Rugby che oggi ha ufficializzato l'ingaggio del 31enne centro argentino Luciano Sacchetto reduce da una stagione nella massima serie portoghese. Ricordiamo che il campionato dei Kiwi giallorossi comincerà l'8 ottobre a Pesaro con l'Il Petrarca Padova. E vi ricordiamo anche che noi di Rossini TV siamo la TV partner del Pesaro Rugby quindi vedrete e trasmetteremo sul nostro canale tutte le partite in casa di questa squadra. Ed ora dal rugby passiamo alla VL che oggi ha accolto un nuovo ingresso nel consorzio Pesaro Basket al quale seguirà l'arrivo di altri 5 nuovi imprenditori a sostegno della palacanestro biancorossa. La new entry della Valentini Group è la 29esima azienda però abbiamo anche anticipato che le prossime settimane ne presenteremo altre 5 che vanno quindi ad arricchire molto tutta la compagine del consorzio Pesaro Basket. La Valentini Group è un'azienda interessantissima perché fa un prodotto unico al mondo e lavora esclusivamente per 4 grandi multinazionali nessuna di queste è italiana, il settore è quello del mobile quindi sono molto contento di arricchire il consorzio con un'azienda così particolare e così interessante come loro. A questo aggiungo una passione che sia Elisa che Oriano hanno verso il basket per cui siamo felicissimi di questa nuova entrata nel consorzio. Siamo molto felici, significa che la VL va avanti, gli imprenditori si accorgono che cerchiamo di fare cose ben fatte e quindi credo che questo nuovo ingresso Valentini Group sia veramente molto orgoglioso di essere con noi. Li ho visti molto entusiasti, mi fa molto piacere e cominciamo l'avventura. La motivazione principale è il piacere della pallacanestro e di entrare a far parte un po' di questo consorzio che comunque su Pesaro avere una realtà in A1 non è da tutti. Poi queste sono le motivazioni principali, nonostante mio figlio gioca a basket e quindi abbiamo un piacere di vederlo giocare proprio. Ce ne saranno altre cinque. Di queste cinque ce ne saranno tre che non sono pesaresi e non sono neanche marchigiane. Le prossime due sono pesaresi, una è marchigiana, due sono fuori Marche, fuori della nostra regione. Quindi significa che è attrattiva la Vittoria Libertas anche per imprenditori che non sono della nostra città. Un appello è quello di abbonarsi alla VL perché sarà un campionato bellissimo, sarà un campionato avvincente, fatto di tante partite difficili e quindi abbiamo bisogno del nostro pubblico in casa molto caldo e molto presente. Chiudiamo il nostro telegiornale ricordandovi alcuni appuntamenti da vivere e allora andiamo a Fano all'Arena BCC perché questo weekend si conclude la ricca estate di spettacoli che ha presentato proprio l'Arena BCC. Oggi il nostro Antonio Astutti vi presenta il penultimo appuntamento dedicato al teatro dialettale previsto venerdì 1 settembre. Saranno fanosi, voi sarete presenti alla BCC Arena la penultima sera. Si tratta di una storia di fantasmi praticamente. Si svolge in un appartamento, ci sono questi fantasmi, ci sono altri personaggi. Tocca vedere se fanno più paura i fantasmi o questi altri personaggi. Ma tutto questo invitiamo i telespettatori a venirlo a vedere direttamente sul palcoscenico. La domanda che mi faccio è faranno più paura i personaggi o i fantasmi perché i personaggi sono fanesi? Dunque, la compagnia si chiama Saranno Fanosi proprio perché abitiamo tutti a Fano e uno solo di noi c'è anche nato. Tutti quanti gli altri sono nati dovunque, tranne che a Fano. Io sono l'unico fanese della compagnia, sì. Quindi sarai uno dei fantasmi che parla in fanese o no? Sì. Appuntamento alla BCC di Fano il 1 settembre. E allora complimenti davvero all'Arena BCC di Fano che anche quest'anno ha presentato un cartellone di eventi veramente spettacolari. E adesso invece andiamo a vedere la prima serata di Rossini TV perché questa sera alle 21.20 vi raccontiamo quello che è stato Bambini in Festa. Questo bellissimo evento organizzato dal comune di Tavuglia ed esattamente a Rio Salso dedicato ai bambini. Mentre vi aspetto domani con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 ricordatevi che potete vedere la nostra rassegna anche dalla nostra applicazione in diretta sulla nostra pagina Facebook oppure collegandovi sul nostro sito internet. L'applicazione come vedete è gratis, scaricatela perché è davvero molto molto utile per essere connessi sempre con la vostra TV di riferimento. Adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Intanto vi auguro una buona serata.